Siamo nella zona del Bruji Khalifa, il Suqq al-Bahar. E' maestoso Bruji, fa un caldo che non ve lo dico neanche, ci stiamo a squagliare. Si muore proprio dal caldo, è impressionante. E' letteralmente impressionante il caldo. Andiamo dentro perché non si resiste a fuori, solo i cinesi possono stare fuori, è impossibile. Pensate che siamo al primo di maggio, non oso immaginare quelli che vengono qui agosto, luglio. E' una cosa che mi resta concepire.